Avete mai pensato a cosa accade dietro le luci sfavillanti dei reality show, dove i segreti sussurrati tra le pareti diventano il pomo della discordia? Cari spettatori, oggi vi portiamo nel vortice di intrighi e passioni che avvolge la casa del grande fratello, dove una rivelazione bomba ha scosso gli animi e ha acceso i riflettori su due protagonisti inaspettati. Vi invito a immergervi in questa storia, non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdervi le prossime avventure del cuore e dello spettacolo. In una serata che prometteva luccichi e spensieratezza, un fulmine a ciel sereno ha sconvolto la quiete del grande fratello. Alfonso Signorini, con lo sguardo carico di mistero, ha presentato delle foto a perla vatiero, immagini che ritraggono Mirko Brunetti, ex inquilino della casa, in compagnia di Shai la gatta, una delle veline che ha fatto sognare i telespettatori di striscia la notizia. Queste foto, emerse dal nulla come fantasmi dal passato, hanno sollevato un polverone di domande e sospetti. Ma cosa nasconde davvero l'ex velina, con il suo passato intricato e i giudizi taglienti? E perché Mirko, ora al centro dell'attenzione, sembra nascondere più di un segreto dietro il suo sguardo sfuggente? Mentre le immagini scorrono sullo schermo, il racconto di una serata a Napoli si intreccia con le parole di coloro che hanno condiviso quei momenti. Angelica Baraldi e Marco Maddaloni confermano, nulla di compromettente è accaduto. Eppure, le parole di Shaila Gatta, risalenti a un'intervista precedente, dipingono Mirko contratti inaspettatamente critici, svelando un lato del carattere dell'ex inquilino che molti non sospettavano. L'atmosfera si carica di tensione quando le dichiarazioni di Shaila emergono dalla memoria, rivelando un disprezzo non celato per gli uomini, pesce al brodo, privi di iniziativa e coraggio. Eppure, Mirko, il bello che non bala, sembra aver cambiato passo dopo l'uscita dalla casa, ricordandosi all'improvviso di possedere un carattere. Ma è davvero così, o si tratta solo di un abile gioco di facciate? In questo dedalo di parole e immagini, tra realtà e apparenze, una domanda rimane sospesa nell'aria, vibrante come una corda di violino tesa, cosa si cela davvero dietro a i sorrisi e gli sguardi di chi abita la casa del grande fratello? Perla, con il cuore trafitto dall'incertezza, cerca ancora risposte, mentre noi, da dietro lo schermo, possiamo solo speculare e attendere il prossimo colpo di scena. Non dimenticate di lasciare il vostro parere nei commenti. Ogni vostra impressione è un tassello prezioso per comprendere questa intricata tela di relazioni. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti sul cuore pulsante dello showbiz. A presto!